Caldo torrido alla Nubifragio, già come è successo in passato, anche la serata di ieri all'Eineken Jam in Festival di Venezia è stata interrotta perché si è battuto un violento Nubifragio con raffiche, pensate, a 74 km orari, lampi e fulmini, che hanno costretto gli organizzatori ad annullare l'esibizione della band dei Green Day, dopo che la pioggia incessante ha reso inagibile il palco. Oggi sembra che lo spettacolo sia assicurato.